Spettacoli teatrali, concerti musicali, letture di poesie, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche caratterizzano l'edizione 2014 della Giornata della Memoria, istituita per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi di concentramento nazisti. Introducendo le iniziative coordinate dal Comune, l'assessore all'istruzione Flavia Rubino ha ricordato che lunedì 27 il gruppo di studenti che nel 2013 ha partecipato al viaggio della memoria nell'ambito del concorso I giovani ricordano la Shoah sarà ricevuto e premiato dal Presidente della Repubblica e ha confermato che anche quest'anno l'ennesima iniziativa sarà sostenuta dal Comune. Anche quest'anno il Comune sostiene le scuole nell'iniziativa prevista dal ricordo alla Giornata della Memoria con delle attività che saranno sia di tipo ludico, ludico ricreativo, quindi la lettura di poesie e una parte musicale fatta dalle scuole del Centro Storico mentre la lettura di poesie verrà fatta dall'Istituto Tecnico Industriale. Oltre a questo naturalmente sostiene anche tutte le altre iniziative fatte dal teatro, fatte da Lampi, fatte da Lanede, da tutte le associazioni che intendono commemorare questa giornata perché non si dimentichi, insomma, perché la memoria continua a vivere anche nei giovani. Lo spettacolo teatrale Restare Umani è in calendario al Teatro Verdi per martedì 4 febbraio organizzato in collaborazione dalla Scuola di Primo Grado Centro Storico e Istituto Kennedy. Il 27 gennaio nella Sala Teresina de Gande, la Biblioteca Civica, le letture teatrali di testi di autori contemporanei che interpretano il ricordo dell'Olocausto e i giorni nostri. Cinema Zero, il 27 e il 28 gennaio, per il pubblico, presenta il film Hanna Arendt di Margherite Fontrotta con un mattinè con le scuole in calendario il 30 gennaio. Lunedì 27 gennaio alle 20.45 il Teatro Comunale Giuseppe Verdi celebrerà la ricorrenza con il concerto del Quartetto di Cremona con Maurizio Baglini al pianoforte. Saranno proposte musiche di compositori vittime di persecuzioni in particolare di Guido Alberto Fano. Alla giornata della memoria inoltre partecipano l'ANED con le testimonianze dei deportati raccolte nel DVD Ritorni, l'AMPI con l'organizzazione di spettacoli con musiche yiddish, una mostra degli studenti delle Finlandiere e le testimonianze delle presenze di ebrei a San Vito tra il XVI e il XVIII secolo e l'Istituto Provinciale di Storia del Movimento di Liberazione dell'Età Contemporanea impegnato nella ricerca delle testimonianze che pian piano si stanno perdendo.